Arriva per la prima volta a Napoli, Circuba, lo spettacolo di acrobazia, musica e ballo con artisti scelti dalle accademie cubane che celebra i 50 anni del Circo Nazionale Cubano. Sostenuto dal Ministero della Cultura di Cuba e patrocinato dal Comune di Napoli, il Circo Cubano sarà ospitato dal 14 febbraio al 24 marzo all'Edelandia nel quartiere di Fuorigrotta. Questo è un momento importante per l'Edelandia perché continua ovviamente la fase di sviluppo come promesso più o meno otto mesi fa, si continua ad andare avanti. Il primo step sarà avere questo spettacolo cubano per la prima volta a Napoli e per la seconda volta in Italia perché la prima edizione è stata fatta a Roma e poi subito dopo inizieremo i lavori dell'ex cinodromo per l'ampliamento dell'Edelandia. In collaborazione col Comune di Napoli saranno realizzati due progetti sociali che porteranno gli artisti cubani ad esibirsi nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Forcella, mentre per oltre mille bambini sarà garantito l'ingresso gratuito al Circo. Artisti che sono premiati dal Ministero della Cultura cubano realizzano uno spettacolo in un luogo che è tornato nel cuore della vita della città di Napoli che è la nostra Rai dell'Andia. Due momenti in strada, eventi pubblici regalati a due aree della nostra città particolari come San Giovanni e tutta l'area est di Napoli e Forcella, quindi il nostro centro storico. Ci diamo appuntamento quindi per vivere in due grandi manifestazioni anche la bravura di questi artisti che incontreranno associazioni, comitati, cittadini, bambine e bambini che operano e che vivono in questi quartieri. E poi uno spettacolo a porta aperte per i più fragili. Sono più di mille, infatti, le bambine e bambini che con le loro famiglie parteciperanno gratuitamente a questo spettacolo.